Beyond the Fair Play, lo spirito etico e salesiano nello sport. E' questo il titolo dell'incontro dibattito promosso dalla PGS San Rocco Sondrio con il sostegno di Pro Valtellina e Fondazione Gruppo Credito Valtellinese questa sera a partire dalle 20.45 presso la Sala Riunioni dell'Oratorio di San Rocco a Sondrio. Relatore sarà Donelio Cesari, responsabile della pastorale giovanile dell'Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana che torna così in Valtellina per incontrare allenatori, insegnanti, educatori e genitori e confrontarsi con loro rispetto alle nuove sfide da affrontare per far crescere i nostri ragazzi in maniera più responsabile e nella gioia di stare insieme. Un messaggio profondo, quello che Donelio affronterà nel solco dello spirito salesiano che vede al centro proprio i giovani e la loro cura. All'incontro saranno presenti anche Marco Gherardi, presidente della Polisportiva Giovanile Salesiana di San Rocco e Don Luca, direttore dell'Oratorio da sempre punto di riferimento per molti ragazzi e per le loro famiglie.